Ieri ho riflettuto, il Milan non vince a Cagliari, la Juve non vince il derby, la Lazio non farà più di un punto e nemmeno la Fiorentina. Questo è il pronostico che esclude la partita di Inter-Napoli, sulla quale invece c'è da soffermarsi di più, perché tra 24 ore e poco più scendiamo in campo contro la squadra che il 31 di agosto, a mio modesto parere, sarebbe stata e potrebbe essere la vera antagonista dell'Inter. Non nascondiamoci dietro a un dito, non diciamo che la partita è come tutte le altre, questo si può dire se si ha la visione molto zemaniana. Io ce l'ho del campionato, nel senso che poi alla fine conta vincere alla fine, però è vero che devi fare una marea di risultati contro le piccole, quindi primo campanello di allarme, Antonio Conte con le piccole fa una strage di punti, lasciamo stare la sconfitta di Verona che ha fatto alla prima partita e la Taranta che è una grande squadra, quindi Conte ne perde una all'inizio, poi perde contro una grande squadra. Se togli l'ultima partita contro la grande squadra, al di là di Verona, ha sempre fatto il risultato, infatti è primo in classifica, quindi occhio perché Conte potrebbe essere uno che vince Milano col Milan, pareggia Torino, viene ancora Milano con l'Inter e magari, speriamo di no, porta via un pareggio e poi con le piccole tarella, in teoria. Quindi è molto importante vincere con Napoli gli scontri diretti, più che con la Juve e che con il Milan, dove tra l'altro abbiamo fatto un punto su sei in casa, altro dato che non mi è piaciuto, però anche noi, nonostante quello, siamo praticamente quasi in testa alla classifica e potremmo andarci. E' importante questa partita perché i dati dicono che comunque se non vinci alcuni scontri diretti, e qui si parla proprio di Inter-Napoli, quando io avevo questa maglia più o meno, si parlava degli anni Ottanta, proprio contro il Napoli di Maradona decide lo scudetto dei record di Trapattoni la vittoria contro il Napoli, che comunque era la squadra all'epoca, insieme al Milan, più forte con il dio del calcio, Diego Armando Maradona. Grazie a Dio di avermi fatto nascere nell'epoca in cui ho potuto guardare dal vivo in parecchi stadi. Diego Armando Maradona appena si poteva guardare, insomma, qua vicino, non solo a Milano. Diego Maradona, il calcio, tutto il resto, viene sotto di 15-30-100 livelli. Dopo 100 livelli sotto ci sono Messi, Ronaldo, il fenomeno. Diego è Diego. Ora, la partita di domani vale tre punti, come vale tre punti e varrà tre punti quella con la Fiorentina, quelle che giocheremo con Cagliari e Combo tra Natale e Capodanno. Però dicevo che la statistica, anche appunto relativa agli anni Ottanta, dice che poi anche Napoli-Milan, con il gol di Virdis al San Paolo di Gullit, che distrugge il Napoli di Maradona e consegna uno scudetto al Milan. Poi, alla fine, sa chi lo vince nello scontro diretto. Quindi, gli scontri diretti che fanno vincere alla Juventus in casa del Milan nel 2005, nell'anno di Istanbul, no? Di Milan. Il Milan, no? Se è stato a Istanbul, sì, ma da turista. Quindi, loro nel 2005 che volevano vincerla e noi siamo andati da non favoriti, loro da strafavoriti e l'hanno presa nel culo. Però poi l'hanno presa nel culo anche in campionato. Quindi, scontri diretti che valgono. Premesso quello che va detto prima su, invece, il ruolino che il Napoli e le altre squadre hanno con le piccole. L'Inter, spesso, invece, ha fatto buone partite con le grandi negli ultimi anni e si è inceppata con le piccoline. Vedi lo scudetto perso con Brogna e Milan. Milan, incluso, considerato una squadra piccolina perché quello è... Perché in 15 anni hanno vinto questo scudettino, questo sculettino. Fatto sta che, però, la partita ha una valenza importante. Vale tre punti, ma vale che cosa? Vale il fatto di mettere nell'angolo il Napoli di Conte e lo stesso Conte proprio dopo che hanno preso tre schiaffoni dell'Atalanta. Perché la sconfitta del Napoli è stata proprio brutta. L'Atalanta li ha distrutti. E quindi, se venissero distrutti anche qua, sai, due partite, zero vittorie. Quando dicevano, ah, il Napoli vedremo, no? Quando incontrerà le grandi squadre. Contratto il Milan, che con tutto rispetto oggi non è per al di là di Madrid, non è per niente una grande squadra. Dicono loro, i Milanini. Per me, invece, è abbastanza forte. Però il Milan perde anche con il Napoli. Anche qua, no? Però il Milan poteva vincere, le azioni, ok? Io faccio questi corsi e ricorsi perché la gente dimentica. E siccome a me mi sta sul cazzo la gente con la memoria, io ricordo le cose. Perché ricordo come vince il Napoli, come vince il Milan, la percezione che c'era di quel Milan. Quindi, il Napoli vince contro una squadra così così all'epoca, veniva considerata dagli stessi milanisti. Invece, l'Atalanta, percepita come grande, bastona il Napoli. Se l'Inter, che è la squadra più forte, più grande degli ultimi anni, batte il Napoli, il Napoli perde con le due grandi. Quindi vuol dire che appena ha alzato la testa, il Napoli avrebbe preso, se perdono con l'Inter, due bastonate. E vuol dire rimetterli e cacciarli molto in basso. Toglie l'autostima. Al di là che questa squadra, però, due anni fa ha vinto lo scudo. Quindi non è il Napoli che non vince mai, ma è il Napoli che ha vinto lo scudo due anni fa e ha sei, sette elementi in squadra, anche di più, che sono campioni d'Italia due anni fa. Quindi, comunque, li puoi bastonare, ma non ammazzare a livello calcistico e mentale. Però, conta. Conta anche per noi, perché vuol dire vincere la prima sfida contro una grande squadra che lotta per il campionato. Perché l'Atalanta, quando l'abbiamo battuta, nessuno l'avrebbe data come ancora adesso, se qualcuno fa fatica. Invece, per me, l'Atalanta si è sverginata dal punto di vista delle vittorie con l'Europa League e come Rose, mentalità, è pronta per vincere lo scudetto. Attenzione a un'Atalanta che magari in Europa molla un pochino, anche se non sembra, poi in campionato comincia a vincere, vincere, vincere. Lo stadio nuovo, il fatto che hai una vita che non vinca una squadra sfavorita, a parte il Milan nel 2022. Però, occhio, però l'Inter che batte quell'Atalanta, batte un'Atalanta che era priva di sei, sette titolari. Ora, ma anche il Napoli che batte il Milan, però, col Milan che era praticamente rimaneggiato con il rinvio di Bologna. Quindi si sta creando una situazione dove si entra nel clou del campionato proprio quando poi ci sarà la pausa. Battere il Napoli significa mettere all'angolo il Napoli, elevarselo, credo, mentalmente, per un po' dalle palle, calcolando che poi devi vincere le altre squadre. Ma calcolando che l'Inter ha fatto in Champions benissimo, non molto bene, molto benissimo, molto bravissimi, se l'Inter poi in campionato tra l'Ipsia e l'altra partita, fa dei punti con squadre inferiori, poi sai, il calcio è tutto il contrario di quello che ho detto. Poi ti trovi il Venezia che si chiude e non riesce a fare la partita, trovi l'Arsenal che vuole fare la partita, poi si chiude, poi però la vuole rifare, poi però l'Inter ha un pizzico di fortuna, ma gioca con moltissime riserve, e quindi poi ti trovi la Juventus dove vai in vantaggio, fai un sacco di gol a una squadra che non aveva mai preso gol, io dissi, ne faremo quattro, ne abbiamo fatti, però li abbiamo anche presi. Poi dopo che prendi la scopola dei gol con la Juve, però di colpo a Empoli si gestisce, ci si abbassa, ogni volta che ci si abbassa dietro De Vrij diventa fenomenale, Bisseg diventa fenomenale, quindi come ho sempre detto riuscire a difendere bassissimi esalta le doti dei nostri difensori e anche delle nostre ripartenze, perché non c'erano in campo i titolari, ma io credo che con questa difesa in campo non ci fosse stato il Napoli domenica, cioè domani, l'Inter contro l'Arsenal probabilmente c'erano due opzioni, la prima è che essendo una partita più aperta ci potevano far male anche loro e poi lo spiego questo concetto che ne parlavo prima con l'ichilista che saluto e però la stessa Inter che si chiude e riparte con i Di Marco in campo, con i Barella in campo, con Lautaro Tura con tutti in campo è un Inter che all'Arsenal poteva fare molto male, anche perché dietro anche loro hanno abbastanza fatto un po' ridere, a un certo punto in finale le gambe che si incrociavano non sono così fenomenali come Arteta ci vuole far credere. Però è anche vero che quell'Inter che prende i gol è proprio l'Inter che vuole fare il quinto gol alla Juve, che si allunga, la difesa si alza, De Vrij a centro campo non si capisce a fare che cazzo e la Juventus di Hildiz che poi non ha più segnato prende e fa due gol, ma a campo aperto, non con un tocco sottoporta alla Di Marco in Coppa Italia contro la Juve e noi la risolviamo col tocco sottoporta con la Roma o con Barella sottoporta ancora una volta mi pare con la Roma, No! Campo aperto, discesona, spazi, praterie, quindi l'Inter che poi attacca è la stessa Inter che poi fa fatica quella che riparte, mentre l'Inter che sa gestire è quella che però fa anche fatica a ripartire. Quindi siamo davanti per la prima volta a una squadra molto matura, molto evoluta, perché siamo partiti possiamo dirlo anche da padre Pioli con qualcosina dopo il ruttatore De Burr, siamo passati attraverso Spalletti che ha lasciato un'impronta non importante ma un'impronta. Spalletti all'Inter non ha fatto molto bene, io lo considero un grande esperto di calcio e ha fatto un po' male all'Inter, ha fatto molto meglio a Napoli e alla Roma, da noi non lo so come mai. È un grande rimpianto che Spalletti è uno che di calcio ne sa. Poi l'impronta finale di Conte e poi tutte le evoluzioni nel solco di Conte di Inzaghi che poi è stato bravissimo nel continuare il lavoro e a migliorarlo, a migliorare tutti e quindi poi questa squadra diventa matura e diventa tante cose. Finalmente non è l'Inter del 3-5-2, non è l'Inter di Spalletti, non è, non lo so, la prima Inter di Inzaghi che magari perdeva con le grandi, che poi c'è stata la seconda Inter di Inzaghi che perdeva con le piccole. Poi l'anno scorso c'era l'Inter di Inzaghi che non perdeva con nessuna. Perfetta, concentrata. Quest'anno non diamo quei segnali, però siamo diversi, siamo poliedrici, siamo... se io dovessi affrontare l'Inter direi ma che cazzo di squadra affronto? Ecco, concluderei il video, poi magari facciamo una live insieme perché ne ho veramente voglia. Bevo e vi dico che Inter incontrerà Napoli e non so se questo sia un vantaggio o uno svantaggio per il Napoli. Io so che l'Inter che andrà in campo con Napoli quindi quella che il Napoli incontrerà sarà l'Inter dei titolarissimi e i titolarissimi ci sono tutti ma anche a Cerbi recuperato. Nei titolarissimi non c'è Dunfris che è stato migliore in campo con Visek con l'Arsenal ma nella squadra dei titolarissimi c'è D'Armiano e non c'è Dunfris c'è Di Marco e non c'è nessun altro al di là di Infortunio di Carlos Augusto c'è a Cerbi e non c'è De Vrij e ci sono Pavard e Bastoni Bastoni che ha recuperato c'è Sommer il centrocampo è quello solito di Inzaghi l'attacco è il solito quindi il Napoli gioca contro la squadra che ha giocato e giocherebbe le partite più importanti loro hanno quasi tutti sarà una sfida bella bisogna vedere il Napoli come si comporterà dopo la scopola con l'Atalanta bisogna ricordarsi che l'Inter ha riposato ma neanche tanto perché ha giocato il Napoli bisogna ricordarsi che l'Inter è quella indescrivibile che noi non sappiamo come si può comportare ma è quella magari titolare col Milan che però non ci mette la voglia è quella che con la Juve ci mette voglia ma anche supponenza forse questa di Inter-Napoli che è una partita che nessuno può dire di non sentire perché da Enzaghi a Conte dai corsi ai ricorsi dalle conferenze stampa alle formazioni alle aspettative al fatto di essersi addirittura un po' risparmiati con l'Arsenon fa capire che questa è una partita non come tutte le altre anche perché il Napoli per anche tanta gente all'Inter ve lo posso garantire il Napoli è la vera rivale quindi sarà sicuramente una partita bellissima giocata da squadre praticamente con quasi tutti i titolari effettivi e qual è l'Inter che ci si aspetta è l'Inter concentrata forte la migliore versione quindi quella che non subisce dietro che conclude davanti e che a centrocampo e sulle fasce domina e che con i braccetti fa quello che vuole però nella sua migliore versione e quindi molto Olanda totale molto Ajax totale avanti tutti indietro tutti questo è se sarà leggermente diverso avrà i cali visti nel derby o la supponenza contro la Juventus l'Inter rischia dal Napoli mi aspetto forza quadratura reparti stretti ripartenze qualche ampiezza in più sarà una partita credo non cattiva ma abbastanza fallosa sarà una partita che per gli arbitri sarà difficile arbitrare occhio fuorigiocchio occhio all'espulsione alla munizione occhio alle mischie occhio ai cross occhio alle uscite e poi ne parliamo in live il mio pronostico lo sapete per me l'Inter avrebbe vinto con l'Arsenal e con il Napoli quindi quello è poi razionalmente se devo giocarmi l'appartamento il box il pappagallo io mi giocherei un 1 a 1 io sono uno per la vittoria sempre e l'ho raccontato in questo video però un 1 a 1 con il Napoli in questo momento calcolando quello che ci aspetta da qua a gennaio non mi farebbe tanto dispiacere ovvio che pagherei per vincere e quindi queste sono le mie memorie per questa partita poi domani chiaro che avrò il mio violone quello che sentirò domani magari sarà differente insomma queste sono le sensazioni poi ci sentiamo in live così sentiamo le vostre no non vado allo stadio perché come ho detto dopo l'Inter Arsenal mi sono molto arrabbiato con tutto San Siro l'organizzazione il traffico il l'afflusso il deflusso e non so mi sono veramente io vado allo stadio dal 76 quando andavo con il nonno il papà eccetera e poi ho iniziato ad andare da solo ho fatto il primo abbonamento nell'83 84 avevo 13 14 anni abitavo lì vicino con ancora l'abbonamento di cartone che si che si schiacciava ancora prima dal 80 81 all'84 83 andavi a piedi ti facevano entrare i signori di 60 anni con loro perché potevi entrare c'erano i gradoni non c'erano i posti assegnati quindi tutte le partite si entrava da bambini allo stadio poi c'erano quelli che scavalcavano io no perché avevo sempre paura di scavalcare quindi io non sono uno che ha mai scavalcato mi sarebbe piaciuto ma non lo facevo perché mi faceva paura e poi ho visto gente cadere quindi poi a un derby tra l'altro quindi diciamo che dopo quasi 50 anni di stadio sono 47 anni di stadio non di chiacchiere lascia stare trasferte cioè io San Siro l'ho visto l'ho visto dal concerto di Bob Marley ai primi concerti di Vasco dove ho anche lavorato io ho la maglietta che ho fatto vedere fino fino a quando andavo a vedere anche il Milan quando ero in serie B ho visto qualsiasi cosa la nazionale il mondialito i mondiali ecco diciamo che non è più concepibile andare allo stadio in quel modo poi ci sono i coglioni sulle chat tipo il Faina Coin lo stadio non è per i vecchi ma che cazzo vuol dire che cazzo vuol dire non è questione di essere vecchi è questione che mi sono rotti i coglioni di non poter pisciare dopo che fai la colonna per entrare perché c'è un cesso solo in tutta in tutta la parte sotto della tribuna così come io devo fare la coda per prendere qualsiasi cosa perdermi la traversa di Dunfris ma poi il deflusso i parcheggi il traffico io mi sto parlando di tribuna rossa non è che quindi mi sono rotto il cazzo voglio una strada alberata tipo Monte Carlo arrivi mangi qualcosa di buono ti fermi bevi un caffè vai allo stadio tranquilli con tranquillità ti vivi ti godi non sempre tutto di fretta tutto di cazzo di cancella la gente pressa uno schifo se poi ci metti un po' di nebbia un po' di umidità un po' di pioggia ok certo poi se vai come fanno quelli che parlano sui chat che sei tutto fatto non te ne sbatte il cazzo i giovani lo siamo stati tutti ok tra l'altro parlano loro ma hai fatto mezzo trasferta a vita loro torre coin questi cessi qua il faina quando andavo in trasferta io loro non erano ancora nati ma è vero quando io andavo in trasferta nell'85 86 87 88 89 90 fino a 93 trasferte fatte con pullman treni del cazzo ferrovie nord e pullman che bucavano sgangherati perché sono cose vere loro non erano nati capito che dormivamo sui treni appoggiati ai portavaligie facevamo un biglietto in 50 questi qua arrivano e parla di che cosa che per andare per andare a Pisa o Empoli prendevi tre treni diversi otto pullman poi non si chiamava chi capiva mai un cazzo ok quindi non è che questi qua sono nati nel calcio moderno con il bip chip bip si siedono poi collegano il cellulare oh pezzi di merda che andavamo all'Olimpico cazzo al Flaminio non sapevi neanche a che ora arrivavi e a che ora tornavi siamo stati una volta siamo andati a Brescia in trasferta la partita era alle 3 siamo tornati a casa alla 1 di notte all'Ambrate una giornata di robe che cazzo ne sapete voi non è questione di vecchiaia è questione che mi sono borrotti i coglioni di essere pressato di dover andare lì due ore prima di avere una tribuna che ha dei seggiolini che sono stretti strettissimi c'è la gente in groppa poi oggi San Siro è sempre pieno quindi comunque vabbè io parlo poi con gente che non ha non ha una vita non sa un cazzo del passato è nata nella babbage nella comodità di merda io anche che perdo tempo a rispondere a questi falliti come canavesi tutti questi cornuti che vengono su contro calcio che ho su questa chat di merda guarda andassero tutti a fare in culo forza Inter grazie a tutti